ciao allora per la mia solita serie di recensioni mangiarecce che dar sorpresa maxi con le sorprese dei baby looney tunes che carino allora confezione prevalentemente rosa con il solito coso così bianco qui così qui c'è il logo dei baby looney tunes qui c'è tetti qui ci sono dei fiorellini dietro solite raccomandazioni avvertenza contiene piccole parti eccetera ok adesso vediamo di aprirlo l'ho preso dove lavoro dove lavoro c'era questo e c'era quello di Doraemon vi ricordo per chi non lo sa che io lavoro in un in un coop in una coop superstore che io ero convinta fosse un ipermercato e invece no è tipo una via di mezzo tra un ipermercato e un supermercato normale mi si è distrutto in mille pezzettini solita capsula gialla così e vediamo cosa ho trovato oh che carino Titti che bello allora Titti è contenuto dentro in un bustino così con l'apertura facilitata qui c'è la checklist con Titti nel giardino con la casetta dietro e uno spruzzino qui c'è come montarlo che così appunto figo è carinissimo oh mio dio è dolcissimo e volendo è uno stampino oh mio dio è uno stampino guardate aspettate da questa così si vede oh mio dio che bello amo ste cose e poi c'è questo anellino così che non ho capito boh è un anellino semplicissimo perché che non che non oh non si stacca normalissimo cioè qua fa vedere appunto si mette questo anellino ero convinta che si potesse staccare Titti per metterlo sull'anellino ma no non cioè non ci sta sta solo qua dentro nella qua dentro così nella diciamo un'infea o quello che è che bello però che un timbrino oh mio dio vabbè l'anellino è un po' inutile non so neanche perché l'abbiano messo ma vabbè boh ecco e non c'è però purtroppo non c'è non c'è una checklist per vedere che sorprese che altre sorprese vedete qua c'è solo solo lui solo Titti questo e quindi boh non si sa che altre sorprese si possono trovare dentro magari sul sito della Kinder non lo so comunque molto carino mi piacciono queste cose sono dei delle figure e anche qualcos'altro bello 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 e bene allora alla prossima ciao